Virtual Time Fire World 2, hashtag Giulia con la vostra Giulia Salvi, in diretta dall'autodromo di Monza, BMW Next 100 Festival e ne parliamo proprio con il presidente e amministratore delegato BMW Italia, Sergio Solero. Presidente, benvenuto. Grazie, grazie, grazie a tutti. Allora, in poche parole raccontiamo cosa sta accadendo in questa grande festa per celebrare i cento anni di BMW e come invogliare il popolo di Vergin Radio a fare un salto. Beh, intanto in poche parole è difficile raccontarlo perché succedono talmente tante cose che abbiamo, pensate, 50 attività, più di 300 modelli di automobili e motociclette esposte, ma insomma, cento anni non si fanno tutti i giorni e quindi abbiamo pensato di fare una cosa grande dove sia possibile vedere tutti i nostri prodotti, capire non solo la storia del gruppo BMW, quindi BMW, Mini, Rolls-Royce e le motociclette BMW, ma anche vedere quello che arriverà in futuro, quindi ci sono anche tante cose interessanti sulla innovazione e su quello che arriverà nei prossimi, diciamo, mesi e anni. Infatti ho visto questa dark room nella quale non si possono portare cellulari o qualsiasi cosa che possa fare delle foto dove c'è la vostra macchina del futuro. Eh, abbiamo tante sorprese, veramente tante sorprese, ma anche tante attività, test drive in pista, test drive anche in off-road, si possono provare i nostri modelli in off-road, le motociclette, i nostri modelli più innovativi, quindi le vetture elettriche, i, i3, i8, insomma, c'è veramente tanto divertimento, anche ovviamente degli show stupendi da parte di stuntman, motociclisti, insomma, veramente tante cose. Infatti ho visto un sacco di bei trick fatti proprio sulle vostre moto da degli atleti fenomenali e tanti ospiti, abbiamo parlato di Alex Zanardi, quindi l'invito è quello di fare un salto in questo weekend all'autodromo nazionale di Monza. Ci si diverte.